Ancora medaglie per l'Italia alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022, Omar Visintin e bronzo nello Snowboard Cross. Per l'Italia la prima medaglia nella storia della specialità in campo maschile dall'introduzione ai giochi di Torino 2006. L'alto a Tesino è stato protagonista di una gara meravigliosa. Dopo aver perso terreno, in partenza è stato bravissimo a recuperare sul finale, superando all'ultima curva l'austriaco Leftener. Una medaglia insperata, basti pensare che due mesi fa Visintin è volato fuori pista durante una prova di Coppa del Mondo, riportando un trauma cranico e la rottura di un tendine.